Intro Benvenuti a bordo comandanti, io sono Blizzard e oggi siamo qui con un nuovo video riguardante la playlist della regia marina Signori, Dante Alighieri La prima ancora è stata della linea nuova che uscirà ormai tra qualche settimana in accesso anticipato per noi grazie ad Amazon Prime Se infatti avete questo speciale abbonamento che si può ottenere su Amazon a pagamento e collegherete il vostro account di Amazon a Twitch e all'account ovviamente della Wargaming Potrete riscattare Prime Gaming e ogni mese avrete delle ricompense speciali per World of Tanks e per World of Worship Il ricopenso di questo mese di World of Worship è appunto il fatto di poter giocare per circa 15-20 giorni prima degli altri la correzza da Tier 4 Dante Alighieri Signori, siamo su Ring, mappa anche classica da Ranked, Hermes e Rain contro Langley e Rain, quindi doppia portaria in acqua Triple Destroyer, pochissimi incrociatori, tantissime battleship in acqua Questa è una delle 10 partite che ho giocato con questa nave, ne diamo 27, è stato anche il secondo miglior risultato per quanto riguarda il danno della nave Nave che poi vedrete in sequenza dettagliata, dati statistici, armatura, storia, pro e contro e anche la scheda armatura molto interessante con i dettagli che vi fanno un po' capire quanto sia effettivamente valida questa nave Comandanti, vi spoilero subito che secondo me Dante Alighieri è fortemente promossa, una delle più forti correzza da Tier 4 in assoluto Come potete vedere dalla chat, uno dei nostri alleati ci invita a tornare indietro anche per questa parte, ci siamo solo noi e lo Shenyang Ma quel giocatore probabilmente non ci deve conoscere e cercheremo subito di riuscire a ristabilire la nostra superiorità numerica sul lato debole Su quello che sembra al lato debole Guardate un po' SAP che entra in azione, la Dante Alighieri non ha comandanti il proiettile HE come le correttate italiane della linea Hanno tutte un armamento AP e un armamento a SAP I SAP ai tier bassi come questo sono specializzate nel demolire, sì comandanti, demolire i crocitori nemici Riescono a trovare anche la cittadella specie su quelli particolarmente leggeri come il Kuma che ha l'armatura di carta velina Il Kuma decide di provocarci nuovamente, lo farà per l'ultima volta perché lo manderemo a picco dopo neanche 3 minuti di partita Via di galleggiamento, neanche tanto avvenzato il tiro perché comunque la balistica è eccezionale Guardate la precisione dei colpi, Kuma devastato First blood, devastating strike, la Dante Alighieri firma la prima kill della partita A questo punto ci concentriamo sulla Wyoming La Wyoming ha delle sovrastrutture particolarmente grandi e danneggiabili Per la nostra SAP è uno scherzo andare a danno Ci mettiamo in posizione di kiting, puntiamo le nostre 4 torri con i 305 sulla battleship tier 5 americana Anzi su tier 4 scusate E cominciamo a far lavorare i nostri cannoni costruiti a Castellamare di Stabia Ecco che partono La Wyoming ha già subito i primi colpi Ma adesso le sassate arriveranno adesso Guardate un po', 10k e oltre sulle sovrastrutture L'importante è alzare il tiro, non cercare mai lo scafo con le SAP Ma di colpire le sovrastrutture tenerine delle corazzate Possono mettersi di punta, di prua, di poppa, di lato Le SAP entreranno comunque Dipende ovviamente da quanto è grande l'hitbox delle sovrastrutture al quale sparate E ovviamente se questa è una battleship solo quelle Perché nel caso degli incrociatori potete mirare anche tranquillamente sullo scafo Nel caso di questa nave le SAP della Dante Alighieri performano qualsiasi cosa fino a 79 mm di spessore Quindi avete visto altra ammazzata da 10k Oltre 21.000 di danno fatto con solo due salve con la nave invirata Lo Shenyang è praticamente il miglior destroyer del tier 4 per quanto riguarda la linea Ha demolito la Wyoming Ha colpito anche la Gangut E a questo punto lascia a noi l'incombenza di affondare la Wyoming americana HP 36.000 a bordo con un compartimento anti-silure del 16% Un fasciame che riduce appunto il 16% il danno dei torpedo 250 mm di fasciame laterale di corazzatura Che poi cambia, lo vedrete poi in dettaglio perché cambia molto a seconda della posizione della nave 24 nodi e 2 di velocità massima con la bandierina Un eccezionale timone che raggiunge la massima efficienza in 11 secondi Ma con solo 580 metri di raggio virata La nave è estremamente manovrabile da questo punto di vista Quando si angola in questo modo è impossibile danneggiarla In maniera significativa anche per una Gangut sovietica Per quanto riguarda le sue capacità stelle sono molto buone 10,9 km fullata via acqua E 7,9 km via aria Avete visto come il danno con le SAP è cambiato molto rispetto alla Wyoming Quando spariamo sulla Gangut perché la Gangut ha molte meno sovrastrutture rispetto alla Battleship americana Di conseguenza voi avrete molti meno bersagli da colpire e il danno è praticamente la metà La Gangut assomiglia molto alla Dante Alighieri per come è fatta a livello strutturale sopra il ponte Ed è per questo che soffre meno le SAP rispetto alle Battleship americane Per quanto riguarda la sua batteria principale 4 torri trinate da 305 mm che ricaricano in 33 secondi Un brandeggio torri terribile è uno dei punti deboli della nave Pensate che girano stock 180 gradi in 60 secondi 50 se come avete fatto e vi farò vedere poi le skill comandante del post partita Avete utilizzato Expert Marksman come utilizzo io Per quanto riguarda la gitata massima di 14 km e 600 metri Con una dispersione a quella gitata di solo i 208 metri Veramente molto molto precisa Io ho letto delle lamentele su Facebook per quanto riguarda la presunta scarsa precisione di questi cannoni Io non oso pensare che tipo di persone siano queste O meglio come giochino Perché se questa nave è imprecisa Allora dovrebbero sparare con Mioji o altre navi come la Congo Che hanno sì dei calibri grossi ma veramente hanno delle balistiche terribili Dante Lighieri è uno scherzo centrale target Vedete poi a fine partita quanti proiettili effettivamente abbiamo mandato a segno a fine match Per quanto riguarda la velocità della balistica è eccezionale 840 metri al secondo il colpo in AP E 850 metri al secondo il colpo con le SAP Guardate come vedete un po' 4 non penetrati Sempre il discorso di prima In base alla zona che colpite anche del ponte cambia la penetrazione o meno delle SAP Non consiglio che vi posso dare comandanti È che su incrociatori e destroyer sempre usare le SAP Almeno a questo tier Sulle battleship Se queste hanno delle sovrastrutture grandi andate con le SAP Altrimenti sempre le AP Sulle AP poi andremo a fare un discorso a parte Perché chi ha visto le live su Twitch Perché noi siamo in live durante la settimana Se volete seguirci Il nickname è lo stesso che andiamo qua su Youtube Comandanti praticamente avrete sicuramente notato Che le AP non sono molto consistenti Spesso non fanno tanto danno Come magari ci si potrebbe aspettare Questi 305 mm ci hanno un po' fatto storcere il naso Dal punto di vista della penetrazione C'è capitato anche di colpire una Mioji A 10 km in Broadside E non fare le cittadelle E lo stesso equivale per la Gangut E altre Batteshi come la Orion Che sono molto tenere Questo perché appunto i 305 italiani Sono molto scarsi E' vero di penetrazione con le AP Non con le SAP Sto parlando delle AP Per quanto riguarda invece Il suo danno massimo con i proiettili 7.850 con le SAP E 8.100 con le AP Dato così Per quanto riguarda le sue secondarie Sono delle torri binate E anche singole Da 120 mm fino al 4 km Capaci di sparare ogni 5 secondi Con una far chance del 6% Non male Per quanto riguarda l'antiaerea E' orribile comandanti Orribile E' un'antiaerea Praticamente di 8 canoni singoli Da 40 mm E 4 torri singole da 76 Con un'antiaerea Di soli 124 di danno continuativo Fino a 3 km Molto molto basso Come danno antiaereo Molto molto scarso Il danno continuativo Considerando che non avete danno esplosivo Comandanti portate praticamente Farete una fatica mortale Contro le portaerei Specie quando vi attaccheranno In contemporanea Vi capita spesso di incrociare La doppia portaerei E tier 4 Tra l'altro Piccola nota sulle portaerei E' terrificante Il danno che possono farvi Con le bombe AP Con i razzi Non è un problema Con i siluri Li potete imbarcare bene Ma per quanto riguarda Comandanti Il danno Delle bombe E le bombe comandanti Che siano incendiare Tutto quello che volete Le bombe comandanti Fanno malissimo Le bombe su questa nave Fanno dei danni Che sono enormi Vi capiterà anche Di prendere botte Da 7, 8, 10 mila Alla volta Tranquillamente Soffre terribilmente Le bombe Di qualsiasi tipologia Per quanto riguarda Invece Gli inconsonabili Sono quelli che potete vedere sotto E' molto semplice Come la maggior parte Delle battici Ma questo tier Ovvero Monta il damage contro Le reper party Classico E una quarazzata Nessun aerospottino Nessuno scout Nessun consumabile Speciale a disposizione Ora se guardate Siamo rimasti Praticamente in due Come era anche All'inizio partita Le nostre porterie Non ci stanno Assistendo più di tanto Ora se guardate La Dante Alighieri La Kaiser E la Gangots Che sono andate Praticamente incaiti Fino adesso Decidono di tornare Verso la base Questo perché ormai Lo Shenyang E' arrivato E anche noi Siamo in prossimità Della loro cap Sistendosi minacciate Cominciano a ritirarsi Considerando che Appunto Rischiamo di andare In isolamento Contro tre battici Più le due porterie Che cercheranno Di difendere Loro stesse E la base Decidiamo di effettuare Una manovra Di spostamento E quindi virare A sinistra Andando in maniera Difensiva Questo perché Perché loro Verranno verso di noi E quindi non ha senso Accorciare ulteriormente La distanza E andare Praticamente In bocca al leone Una cosa molto importante Le torri centrali Comandanti Sono lentesi A girare Ma le torri centrali Girano Hanno un brandeggio Molto particolare Perché quando sono a riposo Le torri Praticamente Sono poste Nella zona anteriore Non a poppa Come magari Con la canna Rispetto ad altre Battleship E questo vi dà Un vantaggio enorme In fase di brandeggio Quando dovete virare A destra A sinistra E difendervi Da eventuali salve Guardate un po' Questa era una bomba A P Anzi una bomba Non era una bomba A P Ma era semplicemente Una bomba Avete visto come Quanto male ci ha fatto E Quello è il danno Che potrebbe entrarvi Quando vi prendono di mira Le porterie nemiche Abbiamo provato anche A settare la nave Full anti-air In un'occasione Ma non è servito Fondamentalmente a niente E la differenza È stata minima Non considerate Assolutamente Le skill anti-air Sulla anti-air Perché sono assolutamente Insufficienti Per superire Gli attacchi Aeri nemici Per quanto riguarda Invece il discorso Legato Comandanti Alla storia della nave È molto particolare È una nave Che è stata Praticamente Progettata nel 1908 All'opera del genio navale Di Edoardo Masdea E con la collaborazione Di alcuni generali È una nave Che in qualche modo È stata una vera e propria Rivoluzione Nel compartimento Navale mondiale Perché è stata La prima nave Da battaglia Con torri trinate Mai successo prima Viene infatti Impostata nel 1909 E varata nel 1910 Ma solo nel 1913 Entra ufficialmente In servizio È stata costruita Ai cantieri navali Uniti di Castellamare Di Stabia E praticamente Dopo una prima guerra mondiale Passata a Taranto È particolarmente inattiva Se non è un'occasione Del bombardamento Di Durazzo Per diciamo Aprire la strada Alle navi britanniche In sbarco Viene poi praticamente Lasciata quasi in disuso Fino ai primi anni 20 Nel 1923 La nave viene completamente Rinnovata A livello A livello proprio Anche antiaereo A livello di modernamenti E viene anche installato Un idrovolante a bordo In seguito L'Italia entra In crisi economica Una crisi economica Che la attanaglia Alla fine degli anni 20 Quando per ridurre Le spese navali La Dante Alighieri Viene praticamente Dismessa Radiata E infine Smantellata Mettendo fine Praticamente Alla sua brevissima storia Che è durata Praticamente Meno di 20 anni Più o meno O poco Circa 20 anni Eccoci qua Torniamo a noi Intanto che la partita Sta andando Verso la conclusione Vedete il nemico Adesso è praticamente In grossa difficoltà Gangut E E Dante Alighieri Sono in isolamento Noi siamo Siamo allestretti Anche perché andiamo Adosso le porterine nemiche Che continuano A attaccarci Però Questa non è più Un problema Anche perché Possiamo tranquillamente Difenderci Possiamo tranquillamente Superire il danno Da flooding Con il nostro Repair party Che tra l'altro Scaderà più o meno Nelle stesse Tempistiche Del flooding Quello ci permetterà Di recuperare Il 100% Della vita Che stiamo perdendo In contemporanea La nave Comandanti Cosa vi posso dire Adesso la vedremo Nella armatura Alla fine match Io posso solo dire Che la nave È stata molto Molto convincente Molto molto Posta Nei combattimenti E devo dire Che mi è piaciuta Mi è piaciuta Veramente tanto Nelle sue fasi Di gameplay Ma la nave Assolutamente divertente Una delle migliori Secondo me È tier 4 del gioco Sicuramente Una delle migliori 3-4 battleship Di questo tier A mani bassissime Ora Invece di farvi vedere La finale della partita Che sarà Soporifero E a parte fare Circa 10.000 danni Non faremo assolutamente Niente Voglio mostrarvi Quelli che sono I risultati Praticamente Della partita Abbiamo fatto Quasi 100.000 danni Queste sono le 4 medaglie Che abbiamo portato a casa Confedera Devastive Strike Dreadnought E First Blood 15 aerei abbattuti Siamo stati attaccati Spesso dalle porte aerei Lo screen di partita Ovviamente primi Dietro al Kaiser L'Hermes E lo Shenyang Che è fatto Veramente pochissimo A parte i seduri iniziali Sulla Wyoming Praticamente in completo isolamento Ma siamo riusciti A portare a casa la pelle Per quanto riguarda Le skill comandati Che ho utilizzato Sono le seguenti Lo switch veloce Sap AP Secondo me è fondamentale E la skill numero 1 Nuova delle battleship Per quanto riguarda La durata Migliorata Su alcuni malus Ovviamente Expert Marsman Adrenaline Rush E poi 3 skill Livello 4 Dead Eye Che è quella skill Famosissima Che poi vedrete Nelle prossime settimane Con la Blizz Academy Che è un must Su tutte le corazzate Specie quando giocate A media lunga distanza E poi Lo spot Il Sì Il Il costerman migliorato E Fire Prevention Per evitare continuamente Di essere presi Ad incendi Che capita spesso In questo tier Considerando Quanto spam In DHA C'è Specie con dei piccoli Crociatori I moduli Che possiamo Montare Sono solo Questi due E la scelta Obbligata Main Arm Modification 1 E ovviamente Il modulo Che vi promette Di diminuire La possibilità Che possiate Essere presi A incendi O offloading La scelta La scelta L'armatura È molto complessa Per quanto riguarda L'armatura esterna Sovrastruttura Da 13 mm La parte sotto Da 25 E il timone Da 30 Per quanto riguarda La cittadella centrale È protetta Da questo fasciame Da 250 Questo fasciame Arancione Che c'è a prua Gigante Da 100 mm Corre poi Fino a toccare Il ponte E finisce Praticamente Nella zona Di poppa Sopra il timone Per quanto riguarda Invece le torri Classiche 150 a base Fino a 250 Nella sezione avanzata La prua E la poppa È protetta Da questo fasciame Da 19 Mentre il ponte Centrale Da un fasciame Extra Da 25 mm Questa è la cittadella Come potete vedere È una cittadella Molto bassa Perché praticamente È appena appena Sotto la linea Di galleggiamento Ed è protetta Da questo Specie di Turtleback Guscio di tartaruga Da 120 mm Che è particolarmente Efficiente Vi è sicuro Che A parte i colpi A bruciapelo Parliamo di 8-9 km Qualsiasi cosa Vi colpisca Oltre i 12-13 Anche broadside È molto difficile Che rischiano A danneggiarvi A parte con calibri Giganteschi Perché Questo Presunto Turtleback Comunque Fa la sua figura E quando la nave Si angola Devo dire che Le botte Riesce anche A prenderle Senza Senza Particolari Problemi Comandanti È veramente Una buona armatura Da questo punto di vista Per quanto riguarda I pro della nave Sono i seguenti Ottima disposizione Dei cannoni 12 potenti Cannoni primari Sufficientemente veloce Eccellente balistica L'avete visto I proiettili sub Distruggono i cruiser Il Kuma Credo l'abbia capito Molto bene Abbastanza precisa L'avete visto Molto facile da giocare È veramente Semplicissima Avere dei colpi Così veloci E parlo della balistica A un tier 4 È molto Molto raro Trovatemi Delle corazzate Che hanno dei colpi Da 850 840 metri al secondo Al tier 4 Ce ne saranno Forse due o tre In tutto il gioco Quindi Da questo punto di vista È veramente Un lusso Per la Per la corazzata italiana Per quanto riguarda I contro Secondo me Sono pochissimi Scarsa antierea Ma è la cosa Bypassabile Se giocate in gruppo Ma si mette L'antierea Con dei vostri alleati E comunque Avete visto Che giocando Un po' di timone Giocando un po' In maniera intelligente Riuscirete comunque A portare a casa La pelle Anche quando Due portiere Decidono di prendervi Di mira Come è successo Nella partita Che avete appena visto Poretti l'AP Della penetrazione limitata Contro le corazzate L'abbiamo visto In altre partite Durante le nostre serate Di Twitch Contro alcune navi Le AP facevano Molta fatica Anche se colpivano Il broadside Parlo del Battiship ovviamente E facevamo solo Dano bianco Entravano anche salve Da 8, 9, 10, 12 K Ma niente cittadella E questo era un po' Frustrante Lento brandeggio torri E' il suo problema principale D'altronde avendo 4 torri trinate La wargamer ha cercato Di sopperire alla cosa Bilanciandole a loro modo Dandogli una meccanica Molto lenta Però Giocando appunto Con un po' Di intelligenza E angolandosi Si riesce sempre Ad avere 4 torri collimate Sul target E infine Richiede una conoscenza Dei bersagli L'avete visto Sulla Wyoming E sulla Gangut SAP efficaci Sull'americana Molto meno efficaci Sulla sovietica Bisogna riuscire A capire Bene E a conoscere Le armature Delle navi avversarie Per capire Quando utilizzare Le SAP E quando invece Utilizzare I proiettili AP Classici Ed è una cosa Che dovrete Padroneggiare Al meglio Se volete Massimizzare I danni Con Dante Alighieri Signori Nave pazzesca Nave molto forte Io gli darei RNG Sama Se ci fosse Il sistema di classifica Che conoscete bene All'interno Della nostra academy Perché la nave Sicuramente È molto valida Speriamo che anche Le altre siano così Secondo me È già molto forte E anche abbastanza Semplice da giocare Sicuramente molto divertente Secondo me Dante Alighieri È promossa A pieni voti Che altro dire Se avete delle domande Potete farle sotto il video E se avrò tempo E anche un po' di voglia Vi risponderò Per il resto Ci vediamo su Twitch Durante la settimana Da Blizzard è tutto Buona caccia Comandanti E anche un po' di voglia E anche un po' di voglia